Nella stessa serata il Movimento 5 Stelle di Gubbio e quello di Gualdo Tadino scelgono i propri candidati sindaco. Per entrambi è un déjà vu di cinque anni fa. Come da pronostico a Gubbio e nuovamente Rodolfo Rughi a correre per la poltrona da sindaco. Lo ha deciso ieri sera l'assemblea chiamata a scegliere tra i tre attuali consiglieri comunali, oltre a Rughi, Mauro Salciarini e Sara Mariucci. Indisponibile per motivi personali e lavorativi Mariucci, la scelta è stata tra i due consiglieri uomini, con la decisione unanime di riproporre Rughi, che cinque anni fa si fermò al primo turno con il 17,4% e 3.383 voti. A Gualdo Tadino l'assemblea all'unanimità ha scelto nuovamente Stefania Troiani, confidando sulla sua esperienza di consigliere comunale di opposizione. Stiamo lavorando da mese ad un programma, afferma oggi la candidata, per i cittadini con i cittadini, mentre altrove si gioca con candidature e coalizioni. Cinque anni fa per Stefania Troiani una percentuale dell'8,8% e 701 voti. Sconta il Movimento 5 Stelle l'impossibilità di coalizzarsi con altre liste, il presentarsi da solo non sempre ha pagato in generale nelle elezioni amministrative, ma in attesa di modifica al regolamento annunciate dal leader Luigi Di Maio per i prossimi appuntamenti elettorali, per questa tornata si resta nel solco della tradizione.